All'anima dell'intuizione, la prima palla che tocca Qui è bravo anche, poi tutti pensavamo togliesse Alvarez Invece Alvarez è lui che va a recuperare questa palla Dalla parte opposta della sua posizione, taglio profondo Ed è molto bravo sull'uscita di Buffon E tra l'altro anche con la Sampdoria, se ti ricordi, a Torino in particolare Il gol non era simile perché ha tirato sotto la traversa Ma era simile l'azione, palla recuperata Dentro in verticale per Riccardi che taglia verso destra e gol sul primo palo È vero